Endless love anticipazioni. Emir è solo nella sua stanza. Il silenzio è rotto solo dal suo respiro affannoso. All'improvviso, il suo telefono vibra. Un messaggio da Zeynep. Come stai? Emir fissa lo schermo, riflettendo su quanto la sorella di Kemal sia sempre leale nei suoi confronti. Ma invece di rispondere, lascia il messaggio non letto e si dirige verso la stanza di Ozan, dove lui e Zeynep stanno guardando un film e mangiando popcorn. Non appena entra, notano che Emir è ubriaco. Zeynep manda Ozan a prendere altri popcorn, permettendo così a Emir di avvicinarsi. Tuttavia, Zeynep lo respinge quando tenta di avvicinarsi troppo. Al ritorno di Ozan, Emir decide di ritirarsi e andare a dormire. Nel frattempo, Asu è con suo zio, il quale teme di aver fatto troppe pressioni su Kemal. Lei lo rassicura, dicendo che l'amore di Kemal per Nihan è una cosa del passato, e lascia intendere di avere un'idea per avvicinarlo a sé. Suo zio la mette in guardia ad agire per rabbia o impulsività, ma Asu lo rassicura che andrà tutto bene. Nihan consegna a Kemal una bustina contenente dei capelli di Emir. Questa scena rivela quale fosse il favore che Kemal le aveva chiesto qualche giorno prima. Procurargli i capelli di Emir per sottoporli a un test del DNA. Qui entra in gioco una parte cruciale della storia. Cosa pensate che succederà? Commentate qui sotto. Nel frattempo, Emir irrompe insieme ai suoi uomini a casa dell'ex medico legale, ma scopre che l'uomo è assente da giorni. Controllano i suoi documenti e trovano un foglio in cui appare il nome di Tufan e di Galip come suo tutore. Contemporaneamente, Tufan avverte qualcuno che a quest'ora Emir avrà già trovato quel documento. Infatti, giorni prima, lui stesso era entrato in casa del medico legale e aveva inserito quel foglio tra i documenti. Emir, vittima della trappola di Tufan, chiama suo padre e gli chiede se ha fatto sparire il medico legale. Poi gli dice di aspettarlo a casa. Asu, desiderosa di conquistare Kemal, chiede aiuto a Zeynep, che comprende la sua situazione essendo innamorata di Emir, che però non la ricambia. Si incontrano in un locale e Asu le spiega che Nihan è l'unico ostacolo al loro amore o alla vendetta, nel caso di Zeynep. Suggerisce un piano per mostrare a Emir le continue frequentazioni di sua moglie con Kemal. Zeynep deve diventare una spia per i Kosquoglu, informandolo su ogni incontro tra Nihan e Kemal, dimostrando così la sua lealtà. Avverte Zeynep che dovrà conquistare la fiducia di Emir, altrimenti non la prenderà mai in considerazione. Zeynep accetta e ha già in mente cosa fare. Emir arriva a casa di suo padre e mostra il foglio che ha trovato, accusandolo di avergli nascosto che Tufan è suo fratello. Galip risponde che ci deve essere un errore, poiché Tufan è figlio di Nursen, l'ex domestica e amica di sua madre. Emir però non gli crede e se ne va furioso. Nihan, mentre si trova nella palestra di casa, riceve una busta da Efseen. All'interno trova una foto che rappresenta una chiave e sa esattamente dove trovarla. Si precipita nello studio dove infatti trova la chiave e chiama Kemal per informarlo. Kemal le consiglia di non fare nulla, perché non conoscono le intenzioni di chi li sta aiutando. Nonostante il consiglio di Kemal, Nihan è convinta che la chiave sia collegata alla confessione di Tanner e chiede a Kemal di vedersi immediatamente al ritrovo di Zeyr. Emir, nel frattempo, è arrivato in ufficio e chiede alla segretaria di chiamare del personale sanitario per Tufan. Kemal, invece, è al centro analisi, dove si sta svolgendo l'esame del DNA sulle tracce biologiche di Tufan e Emir. Nel suo ufficio, Emir è con Tufan, che gli racconta dei suoi genitori morti e di non sapere neppure dove siano sepolti. Quando arriva il personale sanitario, Tufan si sottopone a un prelievo di sangue per le analisi in laboratorio che permetteranno a Emir di scoprire se Tufan è suo fratello. Nihan e Kemal si ritrovano a discutere della chiave che Nihan ha trovato nel suo studio. Sanno che potrebbe esserci qualcuno che vuole aiutarli, ma non sanno se dietro potrebbe esserci una trappola. Nonostante l'incertezza, Kemal è determinato a scoprire l'origine della chiave e cosa potrebbe aprire. Le domestiche di casa Setsin mormorano sul fatto che Emir sembri assente e che non abbia chiesto di Nihan. Zeynep, sentendole parlare, decide di andare subito da lui, mentre Ozan sta cercando Zeynep seguendo il piano di Assu. Zeynep entra nella stanza di Emir e lo trova immerso nei suoi pensieri. Gli si avvicina e lui le dice che ammira il suo coraggio. Poi si avvicinano ulteriormente e iniziano a baciarsi, finendo di nuovo a letto insieme. Kemal intanto è in una ferramenta e scopre che la chiave potrebbe appartenere a una delle cassette di deposito presso il terminal degli autobus. Nihan torna a casa e trova la porta della stanza di suo marito chiusa a chiave. Lei lo chiama e lui le chiede di andare via mentre Zeynep nel letto di Emir si sente soddisfatta. Anche Ozan, in cerca della moglie, bussa alla porta di Emir che gli dice di averla vista in giardino. Zeynep riesce a rivestirsi in fretta e uscire, facendosi trovare in giardino da Ozan che l'abbraccia esprimendo la sua preoccupazione per non averla trovata. Nihan intuisce qualcosa e lo fa capire a Zeynep con uno sguardo. Poi osserva suo marito con disgusto, mentre lui, in accappatoio e con un bicchiere in mano, si affaccia alla finestra della sua stanza. Poco dopo, in camera da letto, Ozan cerca di avvicinarsi a Zeynep, ma lei lo respinge con la scusa di voler fare una doccia. Entrata in bagno, ripensa ai momenti con Emir e dice a se stessa che il suo obiettivo è sempre più vicino. Nel frattempo, Nihan riceve un messaggio da Kemal e si incontra con lui al pozzo. Kemal è impaziente e le dice che non ce la fa più, che l'unica cosa che lo tiene ancora in piedi è solo l'amore per lei, ma teme che presto nemmeno questo basterà. Aggiunge che se il giorno dopo quella chiave aprirà la porta della verità, nessuno potrà fermarlo. Nihan, commossa, lo abbraccia e lo rassicura che presto tutto finirà.